Paola Cortellesi, attrice e Riccardo Milani, regista, sono forse la coppia più interessante al lavoro dentro il cinema italiano in questo momento. Fanno, secondo me, la migliore commedia popolare, la più divertente, la più intelligente, anche quella fatta con maggiore attenzione alla forma, alla qualità, allo stile, diciamo così, anche dell'intrattenimento. Abbiamo chiamato anche loro per questo formato di Prima e Dopo il Virus in cui facciamo parlare il cinema italiano, ma come tutti, chiusi a casa, come noi, come chiunque, anche chi non fa il cinema naturalmente, e insieme a loro condividiamo per l'appunto sia la scoperta del senso di perdita del contatto fisico con le persone più care, l'impossibilità di fare cose che ci sembravano normali, ordinari, invisibili, come per esempio portare in una villa, in un parco, a passeggio i propri figli, e poi naturalmente anche l'astinenza dal nostro lavoro, quanto il lavoro stesso, per la fortuna di chi lo possiede, possa essere importante nella costruzione, nell'equilibrio, nell'immagine che abbiamo noi di noi stessi. La Fondazione Cinema per Roma sta realizzando, sta raccogliendo queste testimonianze proprio con l'idea di condividerle con chiunque, non solo perché il cinema è ciò che poi può raccontarci, in cui soprattutto in Italia è stato uno strumento straordinario per rispecchiare e capire la nostra stessa identità che siamo, ma anche per aiutarci in un momento indubbiamente complicato, per certi versi unico, che stiamo vivendo e che ci ricorda che apparteniamo a una storia lunghissima della nostra specie su questo pianeta, un film incredibile in cui siamo stati coloro che per anni hanno portato l'epidemia, diciamo, fuori dall'Europa e oggi invece ci troviamo a lottare nella situazione contraria. Come i buoni film, ma anche la storia non ripete mai, diciamo così, le stesse, gli stessi intrecci. Un libro cult per chi ama il cinema è questo. No, non mi sento di consigliare un film, un libro, una serie. C'è un film che in questi giorni, insomma, mi ha ricordato che è Captain Fantastic, che è un film che in qualche modo c'entra con quello che sta succedendo. La cosa che mi sento di consigliare però è di stare con le persone a cui si vuole bene. Se uno ce l'ha in casa, e ha la fortuna di averle in casa, di toccarle, di parlarci, di spenderci un po' di tempo. Cosa che mi pare che la normalità precedente in qualche modo ci toglieva. Inevitabilmente il racconto cambierà, perché è cambiata la realtà, dunque in qualche modo bisognerà tenerne conto. Ma il mondo esterno cambierà, quindi il cinema, credo, racconterà questo cambiamento. E si tratta di capire che tipo di cambiamento. Io ho come la percezione che per normalità gran parte delle persone intenda ridiventare gli stronzi che eravamo prima, cioè riacquistare l'aggressività, riacquistare la competizione invece da quella più violenta. Questo modo di vedere le cose, per i primi 8-10 giorni di questa enorme vicenda, ho come ho avuto l'impressione che potesse farci uscire con un senso della collettività importante, maggiore. Man mano questa cosa qui la sento un po' sfaldarsi, per lo meno adesso in questo periodo. Non sapendo di quanto stiamo parlando, di che periodo stiamo parlando, l'inquietudine cresce. Ecco, spero che il cinema riesca a raccontare tutto questo. Una di quelle tante cose che ci sembravano piccole e che ora sembrano impossibili, come portare la bambina al parco a giocare con altri bambini? La prima cosa sarà uscire di casa con mia moglie, la mia bambina e andare a riabbracciare le mie figlie grandi e mia madre. E subito dopo torno al montaggio.